Analizziamo ora brevemente il fanciullino, il saggio di Pascoli pubblicato la prima volta nel 1897 sulla rivista Fiorentina e il Marzocco e poi inserito all'interno del volume Miei pensieri di varia umanità del 1903. Il fanciullino è un saggio che racchiude tutta la concezione della poesia per Pascoli. In maniera molto semplice per capire il fanciullino vi invito a pensare a come dei bimbi di vostra conoscenza guardano il mondo che li circonda. Lo fanno con stupore, lo fanno attraverso la fantasia. Per il bambino ogni cosa è una nuova scoperta e ogni cosa è meravigliosa, ogni cosa suscita la meraviglia. Il termine meraviglia è un termine molto caro a Pascoli e molto importante all'interno della poesia. Secondo Pascoli ogni uomo ha nella sua interiorità un fanciullino, un fanciullino interiore ed eterno che è presente in tutti gli uomini di tutta l'età. Il problema qual è? Il problema però è che questo fanciullino non è sempre ascoltato. In alcuni casi l'uomo ormai cresciuto non riesce ad interpretare e ad ascoltare quelle che sono le sensazioni, le immagini che questo fanciullino porta alla luce e attraverso quello che è uno sguardo innocente, se vogliamo, candido sul mondo. Il poeta è l'unico che riesce a dare voce a questo fanciullino interiore, quindi a quella parte primitiva e spontanea che è presente in ognuno di noi. La poesia, se il poeta scrive poesie e il poeta ha la capacità di dare voce ad un fanciullino, diventa una poesia che non è più creatrice di cose, ma una poesia che porta alla scoperta delle cose, porta alla scoperta di quelle cose che sono al di là di ciò che normalmente siamo abituati a vedere. Il fanciullino è in grado di rivelare quelle armonie segrete della natura, di scoprire nelle cose le somiglianze e le relazioni più ingegnose. Il tutto attraverso una dimensione che è ovviamente di tipo intuitivo, di tipo alogico. Il bambino, il fanciullino, si rapporta con il mondo in maniera non mediata dalla ragione. E' ovvio che il fanciullino emette tutta una serie di segnali, segnali che devono essere compresi dall'adulto, dall'uomo che è ormai cresciuto. Il fanciullino è colui che, come sappiamo, piange, esulta, spera, gode, trema, si meraviglia, se vogliamo, no? Quindi al fanciullino appartengono tutte quelle emozioni universali che vanno ad animare la vita interiore delle persone. Dalla capacità di immaginare alla capacità di emozionarsi. Per che cosa? Emozionarsi per le bellezze della natura. O allo stesso modo il bambino tende a provare dei sentimenti che invece lo portano ad avere paura. Ad avere paura di cose che magari non esistono neanche. Pasquale infatti ci dice che questo fanciullino ha paura del buio. Perché al buio vede o crede di vedere. E' quello che alla luce sogna o sembra sognare. Ricordando cose non vedute mai. Quello che parla alle bestie, agli alberi, ai sassi, alle nuvole, alle stelle. Che popola l'ombra di fantasmi e il cielo di dei. Il fanciullino è un po' come il primo uomo, come i primi uomini. Che si stupivano nel vedere cose. O che credevano di vedere cose. Il richiamo qui è un richiamo fortissimo alla filosofia platonica. Ma questo fanciullino che va ad incarnare quindi tutte quelle che sono le emozioni universali dell'uomo è in grado di perdere il proprio tempo. Perché dice Pascoli che per imparare a guardare, ad avere un nuovo sguardo sul mondo è necessario perdere tempo su quelle cose semplici, sulle cose semplici della natura che molti uomini non vedono o molti uomini non considerano. Io parlo sempre di uomini che sono ormai adulti, no? E quindi il fanciullino ci invita a guardare quelle piccole cose che in un certo senso vengono spesso dimenticate. Sono le piccole cose che colpiscono l'attenzione del fanciullino reale e interiore e che vengono di fatto ignorate o disdegnate dalla gran parte degli uomini ad eccezione, come abbiamo detto, del poeta. Il bambino, il fanciullino in generale, è colui che partecipa quindi alla scoperta del mondo e lo fa così come aveva fatto Adamo. Pascoli dice che il fanciullino è l'Adamo che dà il nome alle cose, ossia è quella figura che riesce attraverso la parola a nominare le cose e a creare quindi un linguaggio che è capace di scoprire e stabilire quelli che sono i legami segreti fra le cose, i legami più intimi, i legami che hanno a che fare con una dimensione a logica, con una dimensione intuitiva che si allontana dalla logica e da tutta la concezione positivistica della realtà. Quindi il fanciullino quando parla, quando nomina le cose, è in grado anche di creare dei simboli, dei simboli che rimandano al simbolismo francese, dei simboli che rimandano a quelle corrispondenze bodleriane di cui abbiamo parlato. Bodler ci diceva che il mondo è una foresta di simboli e che dobbiamo comprendere quelle che sono le corrispondenze che si trovano all'interno di questa foresta di simboli. Ora, il poeta è l'unico, come abbiamo detto, ad essere in grado di, diciamo così, colloquiare costantemente con questo fanciullino e in grado di dare voce a questo fanciullino. Il poeta è una sorta di fanciullo eterno, quindi, che riesce a vedere tutto con meraviglia, con una sapienza che è quasi vergine, che è propria di quegli uomini primitivi. E qui torniamo un attimo a Leopardi, torniamo un attimo a Leopardi che diceva che l'unica vera poesia, quella basata sull'immaginazione e non viziata dal progresso, è quella degli primi uomini, degli uomini primitivi. A questo punto il poeta scrive, scrive poesie che portano l'uomo a stupire se stesso e soprattutto portano l'uomo a trovare, in un certo senso, una nuova forma di poesia, che non è più la poesia che si sottomette a degli scopi pratici, cioè non è la poesia che va a formare l'uomo o che va a elevare quest'uomo rispetto alle masse. Il poeta, infatti, secondo Pascoli, non è oratore, non è predicatore, non è filosofo, non è storico, non è maestro e via dicendo. E qui siamo, diciamo, in quella che è un'aperta critica d'annunzio. La poesia, secondo Pascoli, non è la poesia che porta l'uomo ad affermare se stesso, ma è una poesia che ha valore di consolazione, è una poesia che permette di regredire in quella condizione di percezione immaginativa che è tipica dei bambini. Una visione che si fonda, quindi, su quello che è il rifiuto delle mediazioni culturali, il rifiuto della retorica, il rifiuto della razionalità che sono proprie dell'uomo adulto. La poesia ha sì valore morale, ha sì valore civile e anche valore sociale, ma non c'è il poeta bate. La poesia ha un semplice valore assoluto, un valore assoluto a cui il poeta dà voce, ma poi, insomma, si svincola, poiché la vera poesia è quel qualcosa che si trova, non è una poesia che si fa, non è una poesia che si inventa. Il poeta, grazie al suo essere, diciamo così, fanciullino, riesce a ritrovare, a riprodurre quella poesia nascosta che è nel mondo.